Ciao ragazzi, in questo video parte come un evento live nel server di Discord in cui ho chiesto agli utenti di farmi delle domande interessanti e ce ne sono state un bel po', per cui non escludo che questo possa diventare un vero e proprio format anche perché le domande che avevo finora non le ho ancora esaurite, ne ho fatte praticamente due quinti di quelle che mi sono state poste qui se avete una domanda seria a cui si può rispondere rapidissimamente su YouTube potete pure farla se invece una interessante che può generare appunto una risposta seria da finire in video tenete in mente che ci sono ancora quelli di Discord da smaltire che hanno giustamente la precedenza, per cui potreste trovare la risposta tra tanto tempo e io vi lascio al nuovo format Come mi è venuta in mente la gag o battuta ricorrente di Cassandra D'Eterni? Questa è simpatica perché ero capitato nella parte dell'episodio finale e per cui anziché mostrare tutto il dialogo che mi avrebbe fatto uscire dai circa 30 minuti canonici per fare il video del walkthrough ho voluto riassumere e nello scriptino che mi ero fatto così potevo leggere le cose senza leggere le battute senza aver bisogno di inventarmi nulla e ho messo proprio le battute per Alexios e per Cassandra Cassandra a un certo punto dice ah non ti frega niente e Alexios doveva rispondere semplicemente no ma mi è uscito strano proprio nel vocalizzo ho detto proprio ande frega niente e questa cosa mi ha tirato fuori un... non sono sicuro se chiamarlo un memino pregresso nella mia testa nella mia esperienza con qualcun altro che non segue questo canale quindi niente però mi è uscito proprio spontaneo ande frega niente ma che sei d'Eterni e poi sappiamo che ha avuto una sua legacy questa cosa per cui si è evoluto è diventato uno dei meme dell'anno dove vorrei vivere sulle Alpi di preciso questo è un po' tricky perché effettivamente non ho un'idea così precisa se cerchiamo di richiamare proprio con la mente le immagini che mi vengono in mente di quelle Alpi mi viene più in mente il Trentino Alto Adige proprio la parte dell'Alto Adige quindi su Tirol o Tirolo direttamente perché sono stato a Innsbruck Innsbruck è veramente bellissima veramente bella perciò come nucleo urbano, centro cittadino penso ci stia molto molto bene se no anche Bolzano non è per nulla male come città forse un po' inospitale con quelli più del sud però vabbè bastere a fingere l'acento e poi vuoi mette lo specco a chilometro zero qual è il mio cibo preferito? sono tentato di rispondere banalmente e lapideriamente pizza, così senza un nulla, senza un perché e penso che la confermerò come risposta definitiva a questo punto se ho oppure ho avuto un animale domestico no quello che vedete nel server è San Bernardo ma il nome che ho dato al bot non c'entra nulla ho avuto un criceto quando avevo 13 anni e 14 anni e sì ho sempre voluto avere un gatto o un cane comunque indipendentemente da più piccolo ero più fan dei gatti perché sapevo che non bisognava fare granché con loro poi crescendo mi sono reso conto che il canolino è molto più ci crea proprio un legame diverso ecco o meglio questo è quello che so perché io non avendo mai avuto animali domestici a parte un criceto che stava in una gabbia e ha durato due anni non posso confermare ecco perché ho smesso di giocare a Pokémon? perché essenzialmente per citare qualcuno che vabbè ormai diventa il famoso soltanto per questo poi sti cazzi di tutto il resto perché vabbè stava diventando proprio con ogni gioco fare la stessa identica cosa ancora e poi ancora e poi ancora ancora e ancora aspettandosi che qualcosa cambi o meglio forse aspettandosi no perché credo sia proprio lì il punto di forza di Pokémon il fatto che sia siano sempre tutti i panti uguali e poi ho giocato alla generazione terza e quarta due volte perché a nove anni dopo che feci la comunione è praticamente costrinzi immaginando a regalarmi Pokémon Zaffero che mi piace continuerà sempre a piacermi molto di più rispetto a Rubino non mi importa prendete questo dato come vorrete quando immaginando il video che sti Pokémon mi piacevano veramente tanto e Zaffero è stato effettivamente il gioco su cui ho totalizzato più ore per primo cioè come record per primo stiamo proprio in 235 euro una cosa del genere mi volevo regalargli un altro Pokémon io sapevo che c'erano già rosso fuoco e sì rosso fuoco e verde foglia e volevo anche quelli perché c'era Mewtwo cioè vuoi vedere cazzo avrei potuto finalmente fare una squadra degna una figata sai quando affronti con gli amici queste cose qui e loro mi regalarono Pokémon Rubino passò del tempo uscì la quarta generazione di Pokémon io intanto ho preso un DS intendo DS Lite e comprai Pokémon Perla Pokémon Perla effettivamente non mi piacque così tanto non tanto quanto Zaffero e Rubino comunque però insomma comunque ci trascorrevo le mie ore anche lì anche sul DS che succede poi? che a un nuovo compleanno mi regalano Diamante così l'interesse per i Pokémon è andato scemando è andato proprio svanendo perché tanto insomma l'avevo giocati l'avevo giocati rigiocati anzi Rubino l'avevo cominciato più volte perché di vabbè poi Groudon lo voglio avere vicino a Chiogri quindi lo trasferì nella partita di Zaffero e sostanzialmente finì lì persi interesse poi uscire non mi sa quelli dopo credo la quinta generazione credo sia stata XY e poi bianco e nero e poi vabbè sole e luna ultra sole ultra luna non aspetta in mezzo in mezzo c'è stato il remake di oro e argento e quello lo volevo però niente lì proprio furono i miei genitori a metterci contro no basta questi Pokémon basta e così non giocai al remake di oro e argento sfumò completamente anche la voglia di Joel di recuperare gli altri di andare a reperire le altre cose anche perché nel frattempo svanivano gli interessi degli altri amici che ci giocavano o di altri amici che vedevo direttamente e così bisogna proprio cominciare a allontanare da da tutto anche perché poi prendermi XY prendermi sole e luna prendermi bianco e nero sarebbe stato comincia prendi lo starter lo starter di tre tipi se ne prendi uno di un tipo e il tuo avversario ci sarà sempre l'avversario che si prenderà quello che ha un tipo che fa il culo a quello del tipo che ti sei scelto tu vai avanti il contra il team stronzo cattivo di turno rompi le uova nel paniere ancora il team cattivo che c'ha l'altro team rivale che si vede nell'altra versione affronta le palestre catturle tutti acchiappale tutti eccetera eccetera arriva al al Pokémon della copertina cattura lo batti la lega è finito ciao e questo è stato Pokémon in breve risciacqua ripeti tante cose sulla musica e il mio rapporto con essa non sono mai stato un audiofilo mai e da questo si si possono proprio intuire le risposte successive come gruppi artisti preferiti sono praticamente cresciuto con i Green Day e con il Linkin Park e praticamente di loro due ho ascoltato tutta quanta la discografia quindi non c'è la propria storia dopo un po' ho cominciato anche a preferire Linkin Park ai Green Day che sono quelli che proprio hanno diciamo introdotto alle band al punk insomma alla musica americana diciamo mentre per quanto riguarda artisti singoli non so da piccolissimo una volta sentivo le solite due canzoni di Fabri Fibra o tre ma in ogni caso sono sempre stato poco 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 eclettico verso il liceo soprattutto quando si intensificava il periodo sia Green Day che Linkin Park e avevo cominciato proprio a schifare qualunque altra cosa o meglio a ritenere sempre stimati e quant'altro i Genesis Pink Floyd Rolling Stones Deep Purple a ritenere illustri comunque i Metallica i Megadeth questi qui pur senza ascoltarli perché dicevo vabbè non è comunque il genere che mi ispira che mi piace così tanto e soprattutto a schifare la canzone italiana qualunque canzone italiana perché vabbè a quel periodo giravano un sacco quelli di Amici quelli di X Factor cosa che proprio non sopportavo non sopporto tuttora Sanremo non ti dico un'illuminazione migliore l'ho avuta dopo il liceo quando ho cominciato a ampliare gli orizzonti nella mia sfera l'interesse anzi nella mia bulla di comfort quindi ho cominciato a sentire gli Offspring mi sono non dico innamorato però insomma di molte canzoni gli Offspring mi sono innamorato ne sono tuttora non degli ultimi perché fanno veramente schifo ma lasciamo perdere Malaria aiuto sì esattamente sono la Malaria l'ultima canzone degli Offspring veramente specialmente l'ultima l'ultima proprio l'ultimissima che funge da da title track del prossimo album nuovo album dopo nove anni che non mi pubblicano uno e si pronuncia una merda anche questo ho cominciato a sentire con l'orecchio giusto Caparezza mi sono convinto che se Caparezza avessi ascoltato al liceo molto probabilmente adesso sarei diverso chi lo sa forse non stare neanche parlando ai microfoni in questo momento ho cominciato a sentire Metallica ho ripreso ad ascoltare Linkin Park con l'orecchio critico infatti sono definitivamente sceso a patti col mio cuore ho eletto Hybrid Theory il mio album preferito di Linkin Park e non più Numb e si e non più Meteora e poi più tardi ho cominciato a sentire addirittura il power metal cioè ma non ne vado fiero comunque fatto sta che la mia storia con la musica è veramente brutta non vorrei neanche mai più raccontarla suonare strumenti sono stato sempre negato sempre no beh comunque alle medie suonavo la pianola la pianola la sapete suonare ma il nostro professore era un incompetente era veramente un incompetente e a noi non ci insegniamo mai gli accordi la classe di mia sorella invece anni prima gli insegnò come questa è una brutta morte a noi non insegnò accordi la classe di mia sorella sì perché vabbè loro erano pochi mi sarei a 4 o 5 a suonare la pianola e quindi si concentrano un po' di più su loro non so dopodiché non non ebi mai più quella spinta quell'impulso che mi faceva dire ma sì dai andiamo proviamo non imparare a suonare la chitarra per esempio la chitarra mi sarebbe piaciuto imparare a suonarla soltanto che l'inizio è difficile bisogna essere proprio molto seguiti altrimenti è tutto un cavolo e soprattutto non c'avevo soldi per le lezioni di chitarra non c'avevo tempo perché il liceo classico è così e non c'avevo voglia anche perché devolvevo molto più tempo a nerdare chi ad altro quindi figurati cantare pensavo sarebbe stato una buona idea però neanche lì mi manca tuttora la confidenza mi manca l'esercizio perché non sono neanche uno che parla ad alta voce per questo fare video non dico che è scomodo non è scomodo fare video però non è la mia bolla naturale nemmeno dopo due anni che ho cominciato con youtube e soprattutto perché in tante occasioni sono stonato esempio lampantissimo i toni bassi non riesco a farli come sto grazie sto male se pratico seguo uno sport in particolare l'unico sport a cui mi sono effettivamente affezionato in vita mia è stato il tennis ho giocato a tennis per due anni all'inizio del liceo dopodiché il trenio mi ha fatto abbandonare l'idea ma non l'ho particolarmente seguito cosa penso sarebbe stato di far cry se fossero rimaste e fossero state ampliate le meccaniche soft survival di far cry 2 difficile a dirsi ma sarebbe stato quasi sicuramente qualcosa che probabilmente non avrebbe conferito a far cry 3 la fama che ha adesso di far cry il migliore del mondo bellissimo eccetera anche perché il pregio più grosso di far cry 3 contestualizzato all'interno della sua saga di riferimento è il fatto che zitti è il fatto che è molto accessibile è molto accessibile non è come il far cry 2 a cui ho appena smesso di giocare che devi ricordarti di salvare se non salvi è tutto un cavolo non è come il far cry 2 a cui ho appena finito di giocare in cui devi ricordarti di avere delle armi funzionanti le armi funzionano tutte funzionano anche molto bene non devi ricordarti le pillole della malaria non devi ricordarti di portarti delle cure appresso perché c'è la cura manuale infinita quindi sti cavoli quindi sarebbe stata sicuramente una parte dei giocatori di far cry 2 che l'avrebbe apprezzato sicuramente una parte dei giocatori che amano l'hardcore che l'avrebbe apprezzato ma anche una parte diffusissima molto più diffusa di casual gamer che non avrebbe apprezzato per nulla non a caso far cry 2 insomma tuttora c'è una specie di enorme stigma addosso perché la gente non non si vuole dare la pena di pensare stessa cosa che secondo me passerà per Assassin's Creed Odyssey ma non ho detto niente